Una settimana quella che è iniziata ieri domenica 22 ottobre da vivere al ritmo della natura osservando e ascoltando la voce del bosco, dei paesaggi della nostra isola, assaporando le sfumature dell'autunno. La prima giornata è stata quella della festa d'autunno a Marciana, iniziata a mezzogiorno in piazza Fordi Porta e nelle piazzette interne con stand gastronomici che hanno proposto specialità a base di castagne, caldarroste e dolci. Tutto condito dalla musica dal vivo di Christian Barra e la sua band. Molta la gente che ha voluto rispettare la tradizione, approfittando anche del vantaggio di poter avere il bus navetta gratuito. Si percepiva chiara l'aria di feste e il divertimento delle persone, un momento per socializzare e commentare quanto di buono proponeva la festa. Oggi è stata la volta di Nascosto sotto i nostri occhi, il laboratorio Outdoor con lega ambiente e arcipelago toscano sui temi del rapporto con il territorio. Martedì 24 ottobre alle 10 la passeggiata con l'associazione Pedalta, ormai appuntamento immancabile durante la settimana delle castagne, il percorso dei fiori, con ritrovo al piazzale della Fortezza Pisana alle 9 e mezzo. Giovedì 26 ottobre alle 10 l'escursione, i castagni dalla Valle del Bollero con il CAI, sezione Isola d'Elba. Sabato 28 ottobre la passeggiata alla Madonna del Monte con la rievocazione storica Napoleon Experience, partenza da Marciana alle 10. Domenica 29 ottobre appoggio, la castagnata inizierà alle 10. Gli ospiti potranno visitare il borgo seguendo un itinerario gastronomico legato alle vecchie tradizioni e degustare cibi a base di castagne, dai primi piatti ai secondi, dai dolci al pane di castagne e altre prelibatezze. Da non perdere il trekking alla scoperta della vegetazione di tipo appenninico lungo le pendici del Monte Capanne. Gli eventi sono realizzati dal Comune di Marciana e dalla Proloco di Marciana, con il patrocinio del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e della Rotta dei Fenici, del Consiglio d'Europa, con la collaborazione e l'adesione di numerosi partner, l'Associazione Nazionale Città del Castagno, il Sistema Musiale dell'Arcipelago Toscano, Lega Ambiente Arcipelago Toscano, il Club Alpino Italiano Isola d'Elba Italia Nostra, Arcipelago Toscano, World Biodiversity Association, Accademia degli Infarinati, Associazione Pedalta, Associazione Il Rifugio e il Circolo Amici di Poggio.